Dal 16 agosto, nelle case delle famiglie pesaresi, cominceranno ad arrivare le bollette della Tari 2022 emesse da Marche Multiservizi. Quest'anno la tassa sui rifiuti si annuncia un po' più salata, circa il 3-4% in più per quello che riguarda le utenze domestiche. Un balzello che va a complicare ulteriormente il fardello di aumenti delle altre bollette di luce, acqua e gas. Si tratta però di un aumento non dipendente da scelte comunali, bensì dai metodi tariffari imposti da ARERA, vale a dire l'autorità di regolazione per energia, reti e ambienti. I pesaresi avranno la prima o l'unica scadenza il 16 settembre, in cui pagare l'intero importo dell'imposta o pagare la prima rata. La seconda, terza e quarta rata si potranno pagare entro il giorno 16 dei successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre. Eppure, quest'anno ci sarà chi potrà pagare la prima rata della Tari ed essere a posto per l'intero 2022 beneficiando dello sconto di tre quarti dell'importo. Anzi, c'è pure chi quella prima rata l'ha già pagata ancora prima dell'arrivo delle bollette nelle case. Già, perché dallo scorso mese di luglio il Comune ha stanziato 200.000 euro di fondo Tari inserito nel fondo anticrisi presentato ad aprile per aiutare le famiglie in stato di bisogno con le bollette. Un fondo stanziato in accordo con marche multiservizi e sigle sindacali. A beneficiare dello sgravio del 75% della tassa sui rifiuti sono i nuclei con valori ISEE non superiore ai 15.000 euro per le famiglie composte da uno o due componenti, non superiore a 20.000 euro per i nuclei composti da tre o quattro componenti e non superiore a 22.000 euro per i nuclei composti da cinque o più componenti. C'è chi ha già beneficiato dello sconto perché dallo scorso primo agosto si può presentare domanda esclusivamente con modalità telematica accedendo ai servizi online del Comune di Pesaro e non lo specifico al fondo anticrisi cliccando su servizi sociali. I richiedenti devono dimostrare di essere in regola con i versamenti Tari delle annualità precedenti e già un centinaio di famiglie pesaresi hanno approfittato di questa opportunità chiedendo l'importo della prima rata Tari ricevendo il bollettino e pagandolo subito. Il portale resterà aperto fino al 30 settembre ma il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all'esaurimento dei 200.000 euro stanziati. Nel caso i fondi non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno si procederà con la formazione della graduatoria sulla base dell'ISEE con priorità ai nuclei familiari con più componenti.